Oggi non ce la faccio Era vero comunque Perché non mi ha tolto la vita Alexa Giughiamo a vero e falso La parola italiana più conosciuta al mondo è ciao Vero o falso? Vero Risposta sbagliata La risposta esatta era vero Prossima domanda La tua Eiffel venne costruita in occasione della vittoria della Francia Nella prima guerra mondiale Pensi sia vero o falso? Come dici scusa? Potresti ripetere in italiano? Grazie Non è giusto? Ecco che è mattina Alexa Giochiamo a vero e falso Però non fare Dino? Dino?